Buonasera e bentornati! Vorrei sentirmi GALLERY! Allora questa notte sono molto onorato di ritrovarli qui a Casa Gallery, direttamente nei migliori palcoscenici di tutta Italia, producer, attori, disney e molto di più. Vorrei sentire un grandissimo applauso per Marco Pazzoli e Matteo Gariselli! Allora, allora! Allora, 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 allora... Affiliati! Allora! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.